allora oggi iniziamo a vedere poi lo continueremo lunedì con esempi ed esercizi appunto javascript che avete utilizzato in che avete visto lunedì con alberto avete utilizzato anche in laboratorio ieri ma all'interno del browser o meglio per manipolare cambiare la pagina html per far cose nella pagina html invece che per fare solo dei console punto log come avete fatto finora praticamente ok giusto per ricordarci avete già visto lunedì ma fatemelo riprendere velocissimamente stiamo parlando di javascript quindi codice che viene eseguito all'interno del browser quindi nel client dell'utente che apre la vostra applicazione web e gira javascript nel browser in quello che viene chiamata sandbox del browser il browser è un ambiente protetto non tutto è possibile da javascript browser alcune cose sono possibili altre no perché il browser è un ambiente protetto rispetto a python nel sistema operativo quindi alcune cose non sono possibili fare non si può aprire un file direttamente per leggere dentro ci sono metodi per farlo in particolare fino a qualche tempo fa non si poteva per esempio prendere il flusso video della webcam da javascript nel browser mentre da python volendo sì perché siete su sistema operativo e fate quello che quasi volete e tutto tutti i metodi tutte le funzioni di javascript nel browser sono o funzioni standard come quella che avete visto lunedì per fare i cicli per fare console punto log eccetera oppure sono agganciati a una contesto globale che si chiama window che si può anche mettere e noi quello che andremo a vedere oggi e soprattutto da oggi e soprattutto il la manipolazione del dom quindi come andiamo a riporare quegli elementi del dom che sono presenti nella struttura e giusto anche per ricordarci un attimino voi avete visto lunedì che javascript è sincrono quindi esegue le istruzioni non può eseguire istruzioni in parallelo ma ne esegue una alla volta però con qualche meccanismo che è questo che l'event loop riesce a simulare un comportamento asincrono allora l'esempio classico è quello per esempio del set time out io posso dire imposto un time out che fra cinque secondi mi mostra mi stampa in console punto log qualcosa e in quei cinque secondi faccio altro quindi questo è asincrono perché mentre aspetto cinque secondi faccio altre cose interrogazione vi ricordate come funziona questo da lunedì chi c'era lunedì una vaga idea dove finiscono le le vostre istruzioni javascript in questo disegno le istruzioni javascript è un vostro script dove vanno a finire in questi riquadri for i uguale a 0 i minore di 5 i più console punto log i questa istruzione queste cinque volte console log dove vanno a finire in questo disegno in questo call stack quindi facciamo finta che qui ci siano cinque console log o meglio che ci siano facciamo questo esempio ci siano tre console log e un set time out e poi altri due console log allora quello che succede è che qui viene eseguita la prima console log che stampa ciao viene stampato ed esce dallo stack la seconda va giù della posizione stampa qualcos'altro esce dallo stack la terza a quel punto è diventata la seconda diventa la prima stampa quello che gli pare ed esce dallo stack a quel punto c'è una set time out che dice dopo cinque secondi stampa qualcos'altro ancora questo finisce nella coda delle callback quindi nella coda delle callback per la prima volta ci sarà questo anzi finisce qui in realtà in quest'area immaginiamo che qui ci sia un'altra area in un'area qui che dice aspetta cinque secondi quindi questo viene spostato qui a quel punto l'altro console log viene eseguito l'altro console log viene eseguito e dopo cinque secondi quel set time out viene spostato nella callback queue e alla fine viene eseguito allora il modo in cui javascript funziona è che ogni ciclo javascript controlla se c'è qualcosa nella call stack e se c'è lo esegue se la call stack è vuota esegue le cose che sono nella callback queue quindi se alla scadenza dei nostri cinque secondi ci fosse qui una console log e qui ci fosse altre istruzioni questa console log che dovrebbe essere eseguita dopo cinque secondi aspetterebbe il tempo necessario affinché tutte le altre istruzioni vengano eseguite prima questo è come javascript riesce a mantenere questo parallelismo questo vuole anche dire che questi cinque secondi sono veri cinque secondi o sono cinque secondi di qualcosa era una domanda cinque secondi di qualcosa perché dopo cinque secondi viene spostato nella callback queue e non è detto che la call stack sia vuota quindi magari sono cinque secondi e sono sei secondi perché magari qui c'è roba per un altro secondo ora voi capite che se avete degli eventi che sono asincroni tipo un aspetta cinque secondi e avete da quest'altra parte codice che è bloccante un ciclofor un ciclofor che dura un minuto perché fa tante cose all'interno state bloccando tutta una serie di azioni che avvengono qui per quel minuto perché nulla verrà eseguito se non quello che è nella call stack questo è fondamentale in javascript perché nel browser javascript nasce per gestire tutti gli eventi che sono asincroni che sono gli eventi che girano le persone quando clicco da qualche parte e questo non possiamo predire quando una persona cliccherà perché sarà lì avrà il sito potrebbe cliccare adesso potrebbe cliccare fra un secondo quindi quello che facciamo sarà guidato dagli eventi che sono appunto quando una persona clicca quando una persona sposta qualcosa il drag and drop eccetera oppure aspetta cinque secondi e quant'altro quindi questo è come javascript funziona per riuscire a mantenere questo parallelismo ok ora passiamo invece a quello che possiamo fare con javascript nel browser per manipolare il DOM abbiamo ci concentriamo soprattutto sul DOM ma ci sono anche degli oggetti che sono browser main object che sono che sono tutti derivano dal window quindi sia document quindi è tutta una serie di c'è un oggetto document a cui è attaccato una serie di proprietà una serie di metodi per manipolare il DOM e poi ci sono una serie di oggetti direttamente collegati al window che servono invece per manipolare il browser quindi la finestra del browser non il contenuto della pagina ma la finestra del browser e poi attaccato a questo window in realtà ci sono anche tutti gli oggetti gli array le funzioni javascript che sono indipendenti che sono legati al linguaggio di programmazione quelle che avete visto quindi per esempio ovviamente scrivere window.document windows.navigator oppure document e navigator sono la stessa cosa window si può mettere quindi per esempio il console.log nel browser è un qualcosa che deriva da window ed è un qualcosa che dipende dal browser perché è un qualcosa che è fatto all'interno della finestra del browser non all'interno della singola pagina web e la history che permette di accedere alla cronologia del browser quindi torniamo alla pagina precedente torniamo all'ultima pagina visitata ieri eccetera è un qualcosa che dipende dal browser dal browser della persona che sta navigando il sito stessa cosa location la url il protocollo cambiare la url da un'applicazione web io sono in una pagina voglio andare in un'altra pagina attraverso javascript questo posso farlo ma vado a manipolare le informazioni che il browser ha e il browser ha anche degli storage in aggiunta al cookie che permette di memorizzare dell'informazione all'interno del browser in una specie di mini database in aggiunta ci sono tutta una serie di metodi per esempio il set timeout che abbiamo citato prima quindi aspetta imposto un timeout di 5 secondi e poi fai qualcosa o un set interval che dice ogni tot tempo fai qualcosa che dipendono che sono parte del BOM quindi il browser object modem e poi ci sono una serie di metodi che nel caso non fosse evidente dalla slide non bisogna usare se non per motivi di debug che derivano da da decenni fa perché javascript è stato costruito nel tempo e non hanno mai tolto le cose vecchie ma hanno sempre lasciato cose vecchie unendo cose nuove quindi per esempio l'alert che appare il pop up che appare nel browser agganciato in alto quello è una proprietà del BOM ma è meglio non usarla e utilizzare dei modali in html nel 2022 barra 23 e stessa cosa il prompt che è sempre un pop up ma in cui si può inserire del testo c'è una casella di input e il confirm che ha solo un bottone ok invece che che averne due scusate che ha due bottoni invece che averne uno solo come l'alert però è qualcosa che si aggancia al browser e poi sempre parti di window ci sono questi due eventi questi due metodi che vedremo più avanti che servono anche per manipolare il DOM che sono la possibilità di aggiungere un listener per degli eventi specifici quindi io posso dire e per rimuovere quindi io posso dire voglio ascoltare ogni volta che qualcuno clicca un certo bottone e quando qualcuno clicca un certo bottone voglio fare qualcosa di specifico di maniera programmatica in aggiunta al comportamento di default o in alternativa al comportamento di default del bottone stesso e poi ci sono altri metodi che hanno a che fare proprio con la finestra del browser in quanto tale per esempio open apre una nuova finestra del browser quindi da un sito dove potreste aprire un'altra finestra del browser e passargli un indirizzo per esempio oppure move to resize minimize focus eccetera manipolano la finestra del browser quindi move to muove la finestra del browser di pixel nello schermo resize la fa più piccola o più grande minimize la riduce cona e così via quindi proprio manipolazioni sull'intera finestra del browser indipendentemente in un certo senso dalle pagine che sono aperte in quel momento e vi dicevo anche che attraverso questo window si può accedere a questi storage che sono modi di memorizzare informazioni al di là dei cookie che abbiamo già visto ma per esempio il local storage è la versione moderna in un certo senso dei cookie che è più sicura contiene più dati eccetera non viene trasferita al server quindi è davvero uno storage locale al browser quindi se uno ha bisogno di salvare un'informazione localmente al browser dell'utente per qualunque motivo può inserirlo nel local storage e poi andarlo a rileggere dal local storage questo però non viene trasferito al server quindi non può essere utilizzato per creare una sessione non può essere utilizzato per mantenere informazioni di login eccetera però se serve memorizzare dati da qualche parte dati non sensibili da qualche parte si può usare questo local storage che è un'aggiunta più recente nel tempo rispetto al cookie e questo è il BOM e il DOM l'abbiamo già visto quando abbiamo parlato di HTML e anche lui è uno standard ovviamente c'è una specifica lunga e complicata e giusto per ricordarci il DOM è quella struttura di elementi che il browser crea per ogni pagina HTML che apre quindi un albero di elementi in cui noi possiamo navigare avevamo detto all'epoca in questo albero e JavaScript può navigare e modificare questo albero e di conseguenza modificare la pagina HTML visualizzata quindi si può cancellare tutto un pezzo si può andare a modificare solo un pezzettino del testo si può creare tutta una parte di questo albero e agganciarla all'albero stesso eccetera e JavaScript manipola il DOM che di conseguenza manipola la pagina cambia la pagina e non manipola direttamente la pagina manipola il DOM che poi è la struttura interna e lo vedremo perché tutti i metodi che JavaScript usa per manipolare il DOM sono relativi allo stesso concetto di albero quindi noi potremo aggiungere un nodo andremo a eliminare un nodo andremo a aggiungere andiamo a vedere qual è il primo figlio di un nodo questi sono tutti i concetti che puoi fare se hai una struttura ad albero o una struttura a grafo non se hai una pagina di testo come una pagina HTML qualunque allora nel DOM ci sono alcuni tipi di nodi quindi il DOM è fatto a nodi tutti questi sono nodi è la definizione generica e ci sono alcuni tipi di nodi specifici c'è il nodo documento che è la root la radice dell'albero poi ci sono i nodi che sono chiamati elementi che sono i tag HTML body p table eccetera c'è un nodo di tipo attr che è un attributo di un tag HTML c'è un nodo che è il testo che non è un elemento quindi che è il testo che è contenuto all'interno dell'elemento o all'interno dell'attr il commento ha un suo tipo di nodo e il doc type ha anche un suo tipo di nodo dedicato e come vedete qui uno per esempio ha document poi ha l'elemento HTML l'elemento body l'elemento A e all'interno dell'elemento A ha un testo ha un nodo di testo e ha un attributo che è href e al suo interno c'è il valore dell'attributo che in questo caso è nuovamente un testo quindi questi sono tutti nodi ma hanno caratteristiche diverse e ci saranno metodi funzioni diverse per fare per manipolare questi nodi e dato che è un albero il DOM gli oggetti nel DOM sono in una gerarchia per cui un dato nodo avrà dei figli e questi nodi avranno a loro volta altri figli che possono anche essere specificati in maniera diversa quindi un nodo generico può essere di tipo testo, elemento o commento e un elemento a sua volta potrebbe essere di tipo HTML potrebbe essere di tipo HTML input HTML body HTML anchor eccetera e sono tutti di tipo elemento ma sono specializzazioni rispetto dell'elemento e sono tutti nodi ovviamente il testo non ha una gerarchia di sotto e neanche il commento invece mentre gli elementi si differenziano in vari tipi tutte le i metodi la maggior parte dei metodi per manipolare il DOM manipolano insiemi o liste di nodi o restituiscono insieme o liste di nodi e di conseguenza c'è in JavaScript un tipo che si chiama node list che è un array di nodi quindi è un array di nodi che però ha un tipo speciale che si chiama node list e questo node list dato che è un array si può accedere a come si accedono a tutti gli altri tipi di array in JavaScript e ha le stesse proprietà simili che ha in JavaScript quindi c'è la proprietà length che dice quando è lungo l'array c'è item di i che è equivalente a list di i quindi per prendere l'iesimo elemento dell'array ha entries keys values gli iteratori per appunto iterare sull'array in totale c'è il for off per iterare sull'array e quant'altro quindi tutta una serie di metodi che sono o identici a quelli del JavaScript o come item i equivalenti a quelli che troviamo in un array classico però è un array è un array di nodi che prende questo tipo speciale se volete leggere di più sul DOM adesso noi andremo avanti ovviamente a parlare di come manipolare il come manipolare il DOM tramite JavaScript potete se volete leggere questo documento che è un tutorial completo e che copre molte più cose rispetto alle cose base le cose essenziali che vedremo qui ma senza andare a dover leggere il documento tecnico di specifiche che invece ha un altro livello di dettaglio quindi questo è molto pratico pragmatico ma copre tutta una serie di informazioni tecniche aggiuntive più avanzate anche rispetto a quelle che vedremo qui giusto per avere un riferimento nel caso vi servisse ok cosa vuol dire manipolare il DOM vuol dire che noi vorremmo fare alcune operazioni vorremmo trovare un elemento all'interno dell'albero vorremmo aggiungere uno più elementi e vorremmo cancellare uno più elementi e vorremmo modificare uno più elementi una volta che l'abbiamo trovato e allora questi sono le funzioni per trovare elementi del DOM elementi non nodi quindi questo trova solo gli elementi del DOM non trova i nodi del DOM ovviamente gli elementi sono nodi ma i nodi non sono elementi questi sono i primi tre sono diciamo così classici ed esistono da tantissimo tempo gli ultimi due sono un pochino più moderni come modi ma svolgono lo stesso compito trovano degli elementi e ritornano il nodo o i nodi o la nod list corrispondente all'elemento cercato quindi facciamo faccio parlare un po' voi che cosa fa il primo secondo voi non inserisco trovo un elemento html un tag elementi che ha id uguale qualcosa quindi get element by id qualcosa qui questo restituisce un nodo perché in una pagina html ci può essere un solo elemento con quell'id quindi per forza ce ne sarà uno solo il secondo con lo stesso nome del tag quindi tutti tutti i div tutti gli a tutti i table in questo caso dato che non sappiamo quanti ce ne sono notate che c'è una s torna una node list quindi torna un array di nodi e all'interno ce ne potrebbe essere uno solo dieci o centomila e a quel punto un array noi possiamo iterare sull'array il terzo fa la stessa cosa ma cerca non per id non per nome del tag ma per classe tutto quello che ha una classe col 8 tutto quello che ha una classe blu non importa che tipo di elemento sia gli ultimi due invece sono più generici e in un certo senso possono fare il paio il primo col get element e il secondo col get elements il primo dice restituisco il nodo il primo nodo che trovo navigando l'albero che ha un match con la il css il selettore css che inserisco qui quindi se io volessi trovare un elemento con id 5 posso o usare get element by id 5 oppure posso scrivere query selector aperta parentesi di tutto tra virgolette cancelletto 5 perché il query selector è quello del cancelletto se volessi trovare la prima classe il primo elemento con classe col 8 scriverei punto col meno 8 tra virgolette quindi questo è stessa cosa in questo sotto dove la differenza è che questo torna un nodo il primo che trova e questo sotto torna un nod list quindi qui potete mettere qualunque selettore css che volete quindi gli stessi selettori che scrivete in un file css possono essere messi qui per trovare gli elementi che volete quindi anche pi maggiore di qualcosa tutti tutti i selettori css quindi tutto quello che potete scrivere come un selettore valido in css per applicare delle regole può finire qui quindi anche il penultimo elemento all'interno di un div se c'è una rappresentazione come selettore css in una stringa si può scrivere qui e lui cerca se c'è all'interno del dom della singola pagina ripeto funzionalmente questi due sono uguali a quegli altri quindi se dovete trovare un id se dovete trovare qualcosa per classe è indifferente utilizzare get element by id o query selector cancelletto il nome dell'id da un punto di vista pratico quello che cambia appunto è che questi sono metodi più flessibili rispetto ai primi tre in quanto che ai primi tre potete trovare un id classe e tag con questi potete trovare l'elemento che ha una classe x all'interno di una table ma solo all'interno di una table perché potete rappresentarlo in quel modo come selettore css quindi per le cose facili sono equivalenti per le cose questi due vi permettono anche di fare cose più complicate perché hanno una maggior flessibilità però ripeto per trovare un id una classe o un tag name sono funzionalmente equivalenti ai primi tre questi tre esistevano da prima questi due sono più recenti però come in tante cose in javascript in tutte anzi in javascript soprattutto nel web soprattutto per il browser le cose vecchie non vengono mai tolte ma rimangono quindi si aggiunge qualcosa di nuovo che magari è più potente più flessibile ma si aggiunge ecco questi metodi funzionano anche a cascata quindi non sono obbligato come dice qui a scrivere sempre document.getelement o document.queryselector dove document è la radice dell'intero albero del DOM ma io posso anche dire ok prendo un oggetto prendo l'elemento che appartiene che ha come ID main qualunque sia immaginiamo di averlo e poi all'interno di quel main cerco qualcosa che ha come tag P quindi prendo un sottinsieme dell'albero e vado a navigare solo all'interno di questo sottinsieme dell'albero cosa cambierebbe se noi qui scrivessimo document.getelements by tagname immaginando che nella pagina HTML ci sia un main un aside e un qualcos'altro prenderebbe dalla parte in cima all'albero quindi prendere il primo è possibile avere un'interno di un'interno di un'interno di un'interno di un'interno prende tutti i P all'interno del main ma non prende quelli all'interno della side o all'interno del footer perché non sono dentro il main con document.put prenderebbe tutti quelli del main tutti quelli della side e tutti quelli del footer quindi ovviamente prende di più quindi questo appunto vi permette di agire solo su un pezzo dell'albero e non su tutto se volete se serve si può fare e questo si applica questo è possibile farlo per tutti questi metodi adesso quell'esempio era solo con by id e by tag name ma in realtà anche con il query selector funziona uguale ecco qui c'è un esempio di come appare se fate un console.log o se scrivete direttamente all'istruzione nella console del browser questi elementi quindi se fate un get element by id for lui restituisce questo div id for chiuso div query selector cancelletto for la stessa identica cosa query selector all punto bold restituisce una node list di due elementi che sono div class bold e questo div class bold color perché c'è la classe bold in più c'è anche la classe color ma non importa il secondo trova solo una node list di un solo nodo che ovviamente è solo questo elemento e quindi se espandete questa lista poi trovate anche la versione scritta in questo modo e l'ultimo di nuovo query selector tutto quello che ha bold e color e quindi in realtà la stessa cosa che trova la prima query selector perché in questo in questa pagina HTML c'è solo questi due elementi che hanno uno bold e l'altro sia bold che color quindi se per esempio noi prendiamo una pagina qualunque no abbiamo un sito nuovo prendiamo il sito nuovo bellissimo e e facciamo ispezione elemento e chiudiamo tutta questa roba qua e vediamo per esempio c'è una classe che si chiama region che è ripetuta un po' di volte quindi qui potremmo scrivere document punto query selector di region di punto region perché è una classe e vedete che lui non si vede molto ma lui ci restituisce un l'oggetto query selector il primo nodo che ha come classe region e anche tutti i suoi figli quindi tutta la porzione di pagina che ha quel nodo con classe region e quello che contiene anche se noi andiamo a scrivere query selector all query selector all sempre di region vedete che ci dà una lista di nodi con quattro elementi che sono quello che abbiamo trovato prima più altri tre e anche qui potendo andare a vedere si vedono gli elementi dell'array quindi primo id 0 e secondo id 1 come un array normale e poi invece anche la descrizione del tipo di oggetto che in questo caso hanno nod list quindi qui si può già fare qualche operazione per vedere come funziona per sperimentare se si servisse sia per trovare sia per modificare anche o aggiungere e adesso chiediamo questo oltre che per cercare si può anche navigare l'albero o meglio ci sono delle proprietà per navigare l'albero partendo da un nodo quindi abbiamo trovato il nostro div con classe region potremmo dire quel nodo quell'elemento punto parent node ci dà il padre punto previous sibling ci dà il nodo fratello che viene prima nell'albero next sibling ci dà il nodo fratello che viene dopo first child ci dà il primo figlio che quel nodo ha se ce l'ha stessa cosa last child ci dà l'ultimo figlio che quel nodo ha se ce l'ha e se uno volesse i nodi in mezzo non c'è un second child eccetera ma c'è un child nodes aperto e chiuso a quadra che ci dà tutti ci dà un array di tutti i nodi che sono figli di quel nodo che abbiamo trovato quindi proviamo a tornare dove eravamo prima e vediamo se se funziona quindi diciamo che let a uguale let nodo uguale document punto query selector di region quindi prendiamo il primo region che troviamo ok quindi se facciamo se facciamo nodo dovremmo trovare l'elemento quindi abbiamo una variabile qui possiamo fare scrivere il nome della variabile e vedere il risultato se no dobbiamo scrivere console.log è l'equivalente qui si può scrivere direttamente la variabile per vederne il risultato qualunque se sia questo ha dei figli quindi potremmo scrivere nodo punto first child e vediamo che il primo figlio di nodo è un elemento testuale e che ha delle sue proprietà ovviamente ma vediamo anche che ok e stessa cosa se facessimo nodo punto child nodes vedremo che abbiamo una node list di tutti i suoi figli che sono solo tre il primo è il testo in realtà questo che c'è qui in mezzo nel div il secondo è il container questo secondo figlio e poi c'è un altro testo che è un a capo in questo caso quindi non si vede perché è un a capo però c'è anche un terzo nodo e allo stesso modo potremmo fare nodo punto parent node e vediamo che il parent node di nodo è pole header quindi il nodo padre rispetto a quello che abbiamo quindi da un dato un nodo possiamo navigare su tutti ora questi sono navigazioni tra nodi per cui il primo figlio testo compare perché è un nodo non è un elemento ma è un nodo quindi il query selector non lo troverebbe come elemento perché è un testo ma come nodo sì quindi anche tutti i nodi quindi anche tutti i nodi giusto per quindi non solo gli elementi ma anche tutti gli altri tipi di nodi vengono trovati quando si naviga tra nodi invece appunto i metodi sono per trovare gli elementi non gli altri tipi di nodi poi dato che un elemento è anche un nodo si può usare i metodi per navigare sui nodi quindi si può andare al nodo precedente al nodo successivo e quant'altro quindi questo naviga sui nodi quindi nodo di documento nodo di testo nodo di attributo nodo di commento eccetera questi lavorano sugli elementi che sono un tipo di nodo ma non possiamo trovare un commento con questi non possiamo trovare un un testo con questi possiamo trovare l'elemento che contiene quel testo quello si ecco c'è l'equivalente per navigare l'albero con i nodi ma anche per gli elementi quindi invece di parent node che ci dà il nodo padre cioè parent element che ci dà l'elemento padre che in molti casi saranno la stessa cosa ma non sempre e previous element sibling e next element sibling sono l'equivalente di previous node and next node con la differenza che questo ci restituisce qualcosa solo se il il fratello nell'albero è un elemento se è un testo se è un commento eccetera non verrà dato come risultato mentre con next node sì e stessa cosa per i figli esiste un first element child che ci dà l'elemento esiste un last element child che ci dà l'ultimo elemento figlio quindi anche se questi se questi sono i quattro figli elemento testo elemento testo il first element child ci dà il primo elemento il last element child ci dà l'ultimo elemento anche se non è l'ultimo nodo e il children ci dà un nod list con gli elementi al suo interno quindi text questo text qui non comparirebbe quindi di nuovo se noi qui invece di andare a dire nodo punto qua abbiamo detto nodo punto child nodes abbiamo detto che ce ne sono tre testo div container e testo se diciamo nodo punto children vediamo che è un array di nuovo che in questo caso si chiama html collection invece di nod list perché è solo per gli elementi che contiene un solo elemento un solo figlio perché c'era testo elemento testo qui stiamo dicendo solo i figli che sono elementi e quindi abbiamo solo l'elemento il testo iniziale finale non li abbiamo più ovviamente perché non sono nodi di tipo elemento ora in javascript quando andiamo a manipolare il DOM tutti gli attributi degli elementi diventano proprietà dell'oggetto quindi body id uguale diventa document.body.id quindi se facciamo console.log document.body.id vedremo page quindi andremo a leggere quello stessa cosa se vogliamo modificarlo possiamo scrivere document.body.id uguale qualcosa e questo qualcosa andrà a modificare questo contenuto qui nel nodo dell'html nel nodo della pagina e se preferite invece di scrivere document.body.id potete anche scrivere document.body.body.id sono sintassi equivalente e allo stesso modo se abbiamo un argento di tipo input possiamo scrivere input.checked che ci dirà se questo checked è in questo caso ci dirà è un booleano perché se c'è il checked ci dirà true se non è checked ci dirà false questo ovviamente è una proprietà specifica dell'input che non ha nessun uguale quando abbiamo visto gli input ricorderete non ha nessun uguale dopo a differenza dell'id a differenza delle classi a differenza del method del form quindi tutti quelli sono document punto qualcosa punto qualcos'altro punto method per esempio se siamo all'interno di un form oppure questi funzionano in maniera equivalente a questi quindi anche qui possiamo scrivere abbiamo già recuperato un elemento specifico allora da quell'elemento possiamo scrivere main punto id quindi possiamo mettere in una variabile un elemento specifico e a quel punto andare a scrivere quindi variabile uguale document.body variabile punto id ciderali del body stessa cosa per tutti gli altri quindi quando dobbiamo leggere degli attributi di un tag possiamo farlo in questo modo possiamo anche invece di lavorare sugli elementi possiamo anche lavorare sugli attributi quindi una volta che abbiamo un elemento specifico il body il main un form una tabella eccetera possiamo andare a verificare se per esempio quell'elemento specifico che abbiamo recuperato ha un certo attributo o meno solo se ce l'ha abbiamo 5 abbiamo trovato con query selector role 5 div vogliamo andare a vedere quale di questi 5 div ha un id per esempio per fare qualcosa quindi con as attribute id andiamo a vedere se c'è un attributo questo ci dice solo se c'è o non c'è non ci dice qual è qual è il valore di quell'attributo e per vedere qual è il valore dell'attributo possiamo scrivere element.id element aperta quadra id se id è il nostro attributo oppure element.getattribute id se id è l'attributo che vogliamo trovare questi sono tre metodi equivalenti per fare la stessa cosa idem set attribute in cui impostiamo il valore a un certo attributo e remove attribute rimuove l'attributo dal DOM dall'elemento specificato e possiamo anche prendere tutti gli attributi di un certo elemento quindi id classe quant'altro e un metodo più moderno è questo matches che verifica quindi come il primo verifica se l'elemento corrisponde a un certo selettore CSS quindi se avessimo una query CSS questo elemento verrebbe considerato verrebbero applicato delle regole oppure no quindi questo fa solo un check e ci dice sì o no e questo è per recuperare informazioni come possiamo invece creare elementi possiamo creare elementi o creare nodi di testo con due metodi uno è il create element elemento da creare e l'altro è create text node testo da creare e per esempio possiamo dire che vogliamo creare un elemento che si chiama div che una variabile che si chiama div per creare un elemento che si chiama div all'interno di questo elemento div gli diamo una certa classe che è alert e alert success e come inner text gli mettiamo il testo e equivalente a questo inner text si potremmo usare anche un create text node allora che cos'è questa class name? quando voi scrivete un div minore div non scrivete minore div class name alert alert success chiuse virgolette maggiore eccetera scrivete class perché qui non possiamo scrivere class? perché qui c'è scritto class name? secondo voi? se scriviamo class ci dà errore qui poi questo ovviamente viene convertito in div class uguale alert alert success quindi viene convertito correttamente in html però perché qui scriviamo class name e non class? perché class è una? potete chiamare una variabile for? perché no? class è una varola riservata perché java ha scritto alle classi che si creano con la keyword class e quindi qui non si può usare la stessa keyword perché è quella delle classi quindi class name è il trucchetto perché c'è stessa delle classi ma non sono le classi che java scritta e quindi si usa class name quindi questo genera tutto questo notate anche questo inner text in questo caso stiamo creando un elemento ma se noi non lo stessimo creando lo stessimo modificando i vari inner qualcosa in questo caso inner text rimpiazzano l'intero contenuto testuale dell'elemento quindi non aggiungono del test a quello che già c'è ma semplicemente rimuovono tutto e mettono il nuovo test al suo posto in questo caso lo creiamo quindi non c'è testo questo quando creiamo un elemento quando vogliamo aggiungere un div al nostro DOM questo è un pezzo di quello che dobbiamo fare c'è un secondo pezzo che dobbiamo ricordarci di fare che è secondo voi quello di vogliamo aggiungere un elemento al DOM qui cosa stiamo facendo? lo stiamo creando quindi ci manca il ci manca l'aggiunta vera e propria qui lo stiamo solo creando qui è come se stessimo creando una variabile ma non stiamo dicendo aggiungilo anche perché dove lo aggiungo? se noi pensiamo al DOM come a questo io creo un div dove lo aggiungo? bisogna dirgli dove aggiungerlo perché potrebbe essere aggiunto qui nel body potrebbe essere aggiunto all'interno di questo div dobbiamo dirgli noi dove aggiungerlo non ci basta crearlo bisogna aggiungerlo questo è uno degli errori più frequenti quando si crea e si aggiunge un elemento dimenticarsi di aggiungerlo crearlo ma non aggiungerlo e poi dirlo perché non compare nella pagina? beh perché non l'ha aggiunto allora dopo la creazione è sempre essenziale l'inserimento altrimenti non appare rimane in memoria ma non appare nella pagina allora ci sono n milioni di modi di aggiungere cose al DOM e append child è uno di quelli quindi questo div è la nostra variabile che abbiamo appena creato e qui stiamo andando a dire che appendiamo come figlio al body il nostro div dove ovviamente questo document.body può anche essere rimpiazzato da un'altra variabile che contiene un altro pezzo del DOM non è necessario che sia per forza il body e qui ci sono gli altri n mila metodi per aggiungere cose al DOM quindi dato un elemento append child aggiunge quell'elemento immediatamente come in questo caso c'è un body aggiungiamo il div insert before lo inserisce in quell'elemento prima del next sibling replace child inserisce quell'elemento rimpiazzandone un altro quindi inserisco e cancello non è solo un inserimento è un inserimento più cancellazione di nuovo questi sono metodi che funzionano solo con gli elementi poi ci sono i loro equivalenti che funzionano invece per i nodi ma append e append child con un nodo solo sono identici se sono elementi la differenza è che questi possono anche appendere molteplici nodi alla volta mentre l'append child l'insert before eccetera funziona con un solo elemento alla volta quindi append inserisce qui c'è questo in questo esempio più chiaro forse se il nostro nodo è ol quindi una lista append inserisce al termine dell'li alla fine dell'ol prepend inserisce all'inizio della lista before inserisce prima dell'inizio della lista after inserisce a dopo l'inizio della lista e anche in questo caso c'è un replace with che rimpiazza un nodo con qualcos'altro quindi rimpiazza il nodo con quello che viene dopo quindi nel DOM va a togliere un certo nodo e lo rimpiazza con quello che c'è se vogliamo inserire o leggere il contenuto di un nodo in maniera in HTML ma testuale quindi come stringa c'è la proprietà innerHTML che ci dice qual è il codice HTML come stringa di testo di un certo elemento quindi div.innerHTML ci dà console.log div.innerHTML ci dà proprio l'HTML del contenuto interno di questo div quindi aperte virgolette strong proprio come stringa quindi tutto questo come stringa stessa cosa per inserirlo div.innerHTML uguale qualcosa rimpiazziamo il contenuto HTML del nodo ma passandolo come stringa quindi questa deve essere una stringa HTML valida ovviamente per essere rimpiazzato all'interno di un div il browser se non è valida cosa succede? il browser dà errore perché il browser prima di inserirla all'interno del div verifica che questo sia valido quindi fa un parsing del contenuto lo converte nei nodi DOM corrispondenti e lo inserisce nei nodi DOM corrispondenti negli attributi e poi da poterlo inserire allo stesso modo se uno avesse un fragmento di HTML come stringa come nella linea HTML si può anche inserire in certe posizioni specifiche che sono le stesse posizioni dell'append e del prepend che abbiamo visto prima ma applicate alle stringhe che contengono HTML e l'equivalente per inserire nel testo degli elementi come elementi adiacenti a un certo elemento dato quindi questo aggiunge un nodo di testo in maniera adiacente a un altro elemento stessa cosa per quello sotto infine è anche possibile clonare dei nodi quindi abbiamo già un nodo vogliamo duplicarlo allora element.body.div.cloneNode che accetta da onTrue un false tra parentesi fanno una copia di quel nodo di quell'elemento dove la differenza è che con true fa una copia recursiva una copia profonda del nodo quindi non solo del nodo ma anche di tutti i suoi figli che ne vengono contenuti con i suoi attributi i loro attributi i loro sottelementi eccetera invece se si passa false fa una copia debole quindi solo l'elemento non con i loro figli non con i suoi figli però questo non è tanto utilizzato in confronto a il crea nodo aggiungi nodo trova nodo eccetera però è utile se uno vuole replicare una parte di HTML che ha già una parte del DOM che ha già creato e che ha già a disposizione sulla pagina replicarlo così com'è o recuperarlo e poi modificare no recuperarlo no perché lo fareste con find quindi per replicarlo così com'è quindi fare una copia di una certa porzione della pagina da qualche parte ok domande fin qui ok dato che la mia voce è quella che è e che nonostante qualcuno non gli piace la neve magari a qualcun altro sì direi che per oggi possiamo finirla qui e ci ci vediamo lunedì dove continuiamo con questo e poi facciamo sicuramente degli esercizi e degli esempi su questa parte che saranno poi l'oggetto del laboratorio di mercoledì e saranno anche l'ultimo argomento grosso del corso l'ultimo argomento in realtà del corso perché con la settimana prossima andiamo poi nelle vacanze di Natale e a gennaio cercheremo di non fare lezione magari ci troveremo una volta per discutere del un lunedì un'ora per discutere del tema d'esame che pubblicheremo prima però così se abbiamo delle domande se siete qui possiamo cercare di risolvere alcune domande in quell'ora ma da quel punto di vista ok buon pomeriggio e buona serata a tutti grazie Grazie.